Oh, abbiamo fatto le presentazioni, e ora immaginatevi la scena, se entra dentro alla storia. Una casetta circondata da un grande giardino, circondato a sua volta da una staccionata. Fuori, nei prati, c'è un grosso albero e uno stagno, non molto lontano da una foresta buia e misteriosa. Un bel mattino, Pierino aprì la porta del giardino e scì sul prato. Un bel mattino, Pierino aprì la porta del giardino. Sopra di un grande albero, era appollaiato un uccellino, suo amico, che lo salutò allegramente. Ma tutto è tranquillo! Un bel mattino, Pierino aprì la porta del giardino. Un bel mattino, Pierino aprì la porta del giardino. Un bel mattino, Pierino aprì la porta del giardino. Grazie a tutti.